Amici di Teledeon, ben trovati a questo nuovo appuntamento con elettori ed eletti. Come ormai certamente saprete, il prossimo 20 e 21 settembre si tornerà alle urne non soltanto per rispondere al quesito referendario e per rinnovare il Consiglio regionale, quindi scegliere anche il Presidente della Regione Puglia per i prossimi cinque anni, ma si voterà anche e soprattutto in città importanti del nostro territorio, pensiamo soltanto ai due co-capoluoghi come Trani e Andria. E a proposito di Andria, oggi ci occuperemo proprio della città federiciana con la presenza, la ringraziamo per questo, di Giovanna Bruno, che è candidata a sindaco per la città di Andria, per una coalizione di centrosinistra composta al momento da cinque liste, che sono Partito Democratico, Andria Lab, Andria Bene in Comune, quella che viene chiamata ABC, e Scossa Civica e Futura, che è la rete civica popolare. Un inizio di campagna elettorale molto diversa dal solito, molto anomala. State riuscendo ad inseguire le persone sotto gli ombrelloni? Allora, devo dire che rispetto all'idea che ci eravamo fatti di disinteresse o disaffezione generale delle persone rispetto al voto del 20 e 21 settembre, ci siamo dovuti ricredere, perché invece la gente attende questo appuntamento, lo attende in considerazione del fatto che Andria paga un prezzo importante dopo nove anni di malgoverno e dopo un lungo periodo di commissariamento, quindi il cittadino andriese si sta preparando in maniera molto consapevole, al netto di chi poi è sempre lì pronto a giudicare, a criticare, ad attaccare, ma questo ci sta e anzi, soprattutto con quelle persone bisogna fare un lavoro di spiegazione, di avvicinamento, di recupero della fiducia, perché altrimenti il cittadino vede il politico ancora distante, colpa come è stata gestita la politica nell'ultimo periodo. Giovanna Bruno poteva scegliere in virtù del suo ruolo anche di presidente provinciale del Partito Democratico strade anche più semplici che l'avrebbero portata anche a livelli più alti della politica cittadina ad occuparsi di questo territorio, perché ci mette la faccia? Ci metto la faccia perché Andria ha la necessità di recuperare, gli andriesi hanno la necessità di recuperare l'orgoglio di essere cittadini in questa terra e devono farlo attraverso persone che già sul campo hanno dimostrato competenza, serietà, professionalità, credibilità. Io in questi dieci anni di mia attività politica mi sono spesa tanto, giorno dopo giorno, facendo campagna elettorale sempre e mai da sola, sempre con l'idea di una pluralità, perché è la squadra che diventa vincente. In questo momento la candidatura di Giovanna Bruno a sindaco della città di Andria è la candidatura di una squadra di donne e uomini che appunto si candida a governare la città in un contesto socio-culturale, economico, valoriale, morale molto molto delicato, ma abbiamo le energie e le risorse necessarie per chiedere ai cittadini di darci fiducia e di scrivere con noi pagine di bella politica. Ha parlato di uomini e donne, le donne in particolare di questa città cosa possono chiedere e come possono essere rappresentate al meglio? Mi rendo conto che le donne pagano un prezzo molto alto rispetto alla loro voglia di impegnarsi in prima persona in politica. La politica ha dei tempi che sono maschili proprio di per sé e questa è una delle cose su cui dobbiamo lavorare perché al di là delle forzature di legge, la legge di genere, l'imposizione, bisogna dimostrare sul campo di essere gente in grado di intercettare la fiducia e il consenso delle persone e su quella fiducia e su quel consenso andare a costruire un progetto di buon governo della città. Le donne possono fare tanto e a loro volta si aspettano anche tanto da un candidato sindaco donna che un po' possa riscattare nel loro immaginario l'idea di una femminilità che è sempre stata mortificata in ambito politico. Io le incoraggio in continuazione, devo dire che tante sono le donne che si stanno candidando nelle nostre liste e spontaneamente questo è un buon segno. Ricordo quando io ho cominciato dieci anni fa era molto più faticoso ma anche lì feci una scelta di investimento su un messaggio politico chiaro, le liste dovevano avere almeno per un terzo candidati donna, fu una sfida davvero difficile ma già dieci anni fa un po' di quel lavoro portò dei risultati e oggi raccogliamo anche i frutti di questa semina fatta da questo punto di vista in questi anni. Poi io non sono per le esasperazioni di genere, donne o uomini l'importante è che parliamo di gente che si candida a essere punto di riferimento onesto, credibile, pulito, fattivo, determinato. Questo vale tanto per le donne quanto per gli uomini, però è innegabile che la donna ha un quid in più e noi quel quid lo dobbiamo poter far emergere al meglio. Indubbiamente la competizione elettorale regionale potrebbe avere anche dei riflessi e delle ricadute sul livello locale. Lei cosa si aspetta dalla competizione regionale? Che supporto può avere? La percezione che io ho è che comunque a livello regionale bisogna confermare il governatore uscente per il lavoro che è stato fatto in questi cinque anni unitamente ai consiglieri che lo hanno attorniato e anche per la difficile fase che il paese, la regione, le nostre comunità hanno vissuto con il covid e con l'incertezza di quello che potrà essere il prossimo futuro da questo punto di vista. Quindi sapere di affidare la regione nuovamente nelle mani di una persona che comunque ha avviato un percorso diciamo ben impostato anche di gestione di questa emergenza mette l'elettore più tranquillo. Credo che a cascata come ricaduta questa stessa impostazione dovrebbe dare i suoi frutti anche a livello comunale. È chiaro che le competizioni sono diverse per natura, per finalità, per composizione, nella diversità e nella differenziazione però credo che ci possa essere un effetto diciamo trascinamento dell'una sull'altra e viceversa. Anche perché i comuni che vanno al vuoto come Andri e Trani si presume che abbiano un consenso diciamo elettorale maggiore, più consistente dal punto di vista dell'elettorato e quindi questo può influire molto sui numeri finali della competizione anche regionale. Ecco, entriamo allora nel merito delle scelte da apportare per la vita degli andriesi. Una cosa che è sempre balzata agli occhi nel corso delle ultime competizioni elettorali è che mancasse quasi una visione d'insieme della città. Ecco, qual è la mission di Giovanna Il primo gap da colmare è proprio questo. La città in questi nove anni di malgoverno di centro-destra non è stata condotta secondo una visione progettuale, prospettica che guardasse al futuro. Cioè si sono fatti degli interventi che hanno dato il senso chiaro di chi governava galleggiando, rincorrendo le emergenze senza dare alcuna prospettiva. Normalmente è l'ABC della politica, chi si impegna soprattutto a governare un territorio talmente tanto complicato come il nostro deve avere proprio nel DNA la visione progettuale. Quindi noi dobbiamo proporre, noi proponiamo a chi ci ascolta una differenziazione nella visione di città. Una a medio e breve termine che è quindi caratterizzata da azioni, operazioni immediate, concrete, dirette che devono andare a recuperare l'emergenza e soprattutto a dare la percezione chiara di un attivismo politico. Perché altrimenti che fai? Vai a Palazzo di Città per continuare a galleggiare? No. Quindi c'è un'azione programmatica diretta e immediata che ovviamente sarà quanto più visibile, tanto più ci saranno le risorse o comunque le congiunture utili a realizzare queste azioni. La capacità di trovare queste risorse. Certo, certo, certo. E poi abbiamo una progettazione, una programmazione che guarda più a lungo termine. Per la verità in questo momento storico ci si dovrebbe candidare alla guida della città non per un mandato ma almeno per due perché davvero si tratta di fare delle operazioni rispetto alle quali oggi si semina ma si raccoglierà molto molto più in là. Penso al governo del territorio, penso a tutto il discorso ambientale, penso a un investimento importante sulla cultura, sul turismo, quelle sono operazioni che non si fanno dall'oggi al domani. Si possono fare delle piccole azioni che abbiamo previsto, che stiamo programmando e che declineremo in maniera compiuta quando il programma verrà presentato alla città nella sua totalità. Però abbiamo questi due piani di cui dobbiamo tener conto. Sullo sfondo, lo dico a beneficio di chi ci ascolta perché non è mai tanto ripeterlo, abbiamo una condizione economica precaria, una condizione economica di predissesto con un piano di riequilibrio che tuttora pende dalla decisione ultima del Ministero e della Corte dei Conti e questa situazione non è normale. Quando io mi interfaccio con alcuni cittadini che dicono vabbè ma anche altri comuni, no. Questa situazione è stata determinata in maniera specifica e scientifica quasi direi da alcuni responsabili. Quei responsabili oggi hanno la faccia tosta, dico io e non il coraggio, la faccia tosta di ripresentarsi come se nulla fosse, con vesti diverse, divisi, uniti. Per me non dovevano essere proprio interlocutori, anche perché non c'è stato un solo passaggio di scuse a questa comunità rispetto al disastro che è stato lasciato. Su quelle macerie noi dobbiamo andare a costruire, consapevoli del fatto che le energie al nostro interno sono tali per farci rialzare la china. E allora proviamo a immaginare alcuni percorsi nel breve e medio termine e alcuni percorsi a lungo termine. Vi spiego, proviamo a ipotizzare delle emergenze a cui mettere mano immediatamente per salvare, che ne so, le cooperative sociali, il lavoro. Che cosa si può fare concretamente stanti anche le casse vuote? Proprio perché abbiamo detto che nevralgico è cruciale e il settore economico finanziario dell'ente immediatamente la nuova compagine amministrativa dovrà mettere mano alla revisione, al potenziamento, all'organizzazione dell'ufficio tributi. L'ufficio tributi è la macchina, è il motore. Tra l'altro questa comunità cittadina ha sperimentato ben prima di nove anni di governo di centrodestra che l'ufficio tributi era un fiore all'occhiello non solo per la città ma anche un punto di riferimento per la BAT e per altri paesi limitrofi. Era diventato un modello perché quello diventa il centro di controllo, di smistamento, di indicazione generale su quelle che sono le voci e un po' la cartina al tornasole. Allora siccome io per l'esperienza anche di consigliere comunale di minoranza che ho maturato in questi nove anni non ho trovato un bilancio che è stato presentato dall'amministrazione Giorgino in cui non ci fosse una raccomandazione specifica proprio del collegio dei revisori dei conti che chiudeva sempre con la raccomandazione solita potenziare l'ufficio tributi, garantire il maggior controllo delle entrate, lotta all'evasione fiscale. Tutto questo non è stato fatto. Nove anni, non sono nove giorni o nove mesi o un anno di governo della città. Si potevano fare delle azioni importanti. Invece oggi sento parlare qualcuno addirittura di esternalizzazione e questo è un tentativo che si voleva fare già nell'ultima fase della consigliatura prima che poi fosse decretato lo scioglimento. Esternalizzazione di che cosa? Del motore principale della macchina amministrativa. Quindi lei è a favore del potenziamento dell'ufficio. Assolutamente, anche perché alcune azioni probabilmente renderanno anche più agevole questo tipo di lavoro, tenuto conto che per esempio la gestione commissariale ha già dotato l'ufficio tributi di un nuovo software. Il software, per chi ci ascolta, è comunque lo strumento basilare che consente all'ufficio tributi di funzionare secondo un meccanismo di controllo incrociato delle diverse voci che servono ad individuare il cittadino contribuente affinché e si vada a capire lì dove c'è l'evasione, da che cosa è determinata, dal fatto che l'ufficio non fa partire la richiesta di pagamento o le cartelle oppure da una condizione di difficoltà. Facciamo un percorso di accompagnamento anche dove c'è la difficoltà. Non mettiamo diciamo polvere sotto il tappeto, accompagniamo il cittadino a capire come la sua difficoltà può diventare con un piano di risanamento, con una rateizzazione, ma comunque una risorsa per la comunità. Noi abbiamo un tasso di evasione altissimo, del 35 circa per cento, un tasso acclarato, non un tasso che ieri o avanti ieri... C'è chi dice che quello sia stato uno strumento, una leva politica. È stata una leva politica. Il problema è che non nasce dalla sera alla mattina. In questi nove anni si è consolidato quel dato e anche a fronte delle raccomandazioni e delle indicazioni specifiche che arrivavano dall'organo tecnico e terzo, cioè il collegio dei revisori, non è stato fatto nulla. Un motivo ci sarà consentire un 35 per cento acclarato di evasione senza fare le verifiche, le misure di contrasto e di controllo per capire come quel 35 per cento si poteva ridurre. Poi può anche essere che quel 35 per cento sia strutturale, ma anche lì se è strutturale come dato di evasione andiamo a capire, se lo sappiamo, andiamo a capire come possiamo recuperare. Quindi il primo provvedimento è quello di mettere insieme la macchina amministrativa per poter recuperare le risorse. Io non so se qualificarlo come primo, perché ci sono delle manovre che vanno in questa direzione. L'ufficio Tributi sicuramente è una necessità, ma come una necessità è quella della rivisitazione della macchina amministrativa, che un po' le cose vanno di pari passo, perché noi abbiamo assistito anche a una demotivazione profonda del personale comunale, che in questi anni è stato trattato molte volte, come se davvero stessimo a spostare delle pedine di un gioco a dama piuttosto che altro. E come qualcosa di visibile per i cittadini? Ma innanzitutto l'attenzione alla manutenzione ordinaria di tutto ciò che abbiamo, non è un'operazione che chiede chissà quale opera di progettazione o di pianificazione, bisogna farlo adesso e si fa se non ci sono risorse. Ci sono dei comuni, cito Molfetta, che è soltanto l'ultimo in ordine di arrivo, che ha attinto a fondi specifici fuori bilancio comunale per la manutenzione ordinaria delle strade marciapiedi dell'impianto di illuminazione, ma migliaia, migliaia e migliaia di euro. Allora, quando io ho fatto l'assessore circa dieci anni fa, c'era una figura specifica che affiancava gli amministratori nella individuazione e nella ricerca di fondi che arrivavano anche da altre fonti, regione, comunità europea. Qual era il vantaggio di questa operazione? Che gli uffici su impulso della politica, quindi degli amministratori e quindi degli indirizzi che venivano dal Consiglio Comunale, si dedicava al parco progetti. Se tu non hai un parco progetti a disposizione, può anche essere che sia fortunato ad intercettare un finanziamento, ma lo perdi perché non hai come investire. Questa amministrazione da questo punto di vista è stata maestra perché non solo non ha investito dei finanziamenti, ma lì dove i finanziamenti sono stati segnalati non c'era un parco progetti. Su quello si può lavorare da subito, non c'è bisogno di attendere dieci anni per mettersi a lavorare su una progettazione seria. Poi c'è tutto il discorso del welfare, anche quella è un'azione immediata. Noi abbiamo i creditori del Comune di Andrea che quasi per i tre quarti sono legati al terzo settore. Ma come si può? Non sono creditori che si sono palesati tali improvvisamente dalla sera alla mattina. E poi sono servizi fondamentali, servizi essenziali. Il lavoro di demolizione di un terzo settore che anche lì era fiore all'occhiello è stato talmente tanto grave, talmente tanto importante che però dall'altro lato comporterà uno sforzo immediato, diretto e concreto per rimetterlo su. Perché lì c'è la volontà del terzo settore di continuare ad essere trainante in una comunità che i servizi li attinge soprattutto dalle cooperative sociali. Chiarissimo. Ecco, invece proviamo a immaginare, mancano pochissimi secondi al termine, però proviamo a immaginare qualche opera, qualche servizio che invece può essere progettato per pensare poi alla città del futuro. Il governo del territorio. Una città dà anche visivamente l'impostazione di ciò che è culturalmente, turisticamente, economicamente, anche da come si sviluppa. Il governo del territorio diventa un'operazione a lungo termine, neanche a medio termine, che però necessita di azioni dirette ed immediate. Noi abbiamo strumenti urbanistici obsoleti. Abbiamo un diktat in questo momento. Consumo del suolo, zero. Questo significa che dobbiamo tendere salvaguardando tutte le situazioni che si sono create e generate e che per continuità amministrativa devono essere portate avanti. Ma abbiamo quel diktat, diktat che si sposa con tutto ciò che riguarda l'ambiente. Guardate, non c'è nulla in questo momento, e anche la pandemia ce lo insegna, che possa essere svincolato da un'idea di città che parta, passi e arrivi a tutto ciò che riguarda la sostenibilità ambientale. Tutto, dalla viabilità al piano del commercio, tutto deve essere strettamente collegato. Questa è un'opera di ridisegno della comunità che dal governo del territorio, toccando anche questi altri aspetti, ci deve dare il senso di una città del futuro, che deve essere una città snella, una città bella, una città turisticamente attraente perché abbiamo le potenzialità, una città culturalmente interessante perché abbiamo tante ricchezze, una città che deve fare del commercio e dell'agricoltura davvero i punti di forza, perché l'economia noi dobbiamo essere in grado anche di stimolarla, di generarla, non dobbiamo soltanto piangerci addosso e aspettare che arrivi tutto dall'alto. Dobbiamo anche essere noi promotori della nostra crescita culturale. Si può fare, adesso. Andrea ce la può fare? Ce la può fare, ce la deve fare, ce la deve fare con una squadra di governo che nella mia persona vede il candidato sindaco di riferimento. Ci prepariamo ad essere governo della città coeso, perché anche di questo la città ha bisogno, di un esempio di coesione nella conduzione della cosa pubblica. Mai un uomo al governo, una squadra interscambiabile con una punta avanzata che ovviamente deve fare sintesi rispetto alle diverse esigenze e anche alle diversità culturali che compongono la coalizione. La ringraziamo anche per la capacità di sintesi che in questo momento è particolarmente importante. Allora ringraziamo Giovanna Burruno, candidata sindaco per la città di Andria, per il Partito Democratico, Andria Lab, Andria Bene in Comune, Scossa Civica e futura la rete civica popolare. Grazie per essere stata con noi. L'appuntamento per tutti nei prossimi giorni. Non andate via, restate con i programmi di Televideon.